Presidente, nell'incontro di oggi vi siete riuniti per toccare alcuni argomenti molto importanti per il settore due diligence, ritardi dei pagamenti e altro. Qual è a suo avviso lo scopo di un incontro del genere e soprattutto cosa può fare l'associazione per i commercianti? È una riunione che doveva essere molto importante perché parlare della due diligence a 20 giorni dell'entrata in funzione è una cosa che è necessaria. Abbiamo con la federazione sviluppato tutta una serie di programmi che prevedono tante iniziative per sensibilizzare le categorie, per non arrivare all'ultimo giorno dove non si sa che cosa è il problema. E quindi ripercorriamo la strada delle obblighi della due diligence in un'assemblea pubblica con la partecipazione di gente. Purtroppo oggi il tempo è stato inclemente per cui alcuni non hanno potuto intervenire. Contemporaneamente vogliamo parlare anche del problema dei pagamenti che è il problema che più attanaglia la categoria e che ci obbliga a lavorare male sotto tanti punti di vista. Cosa pensate di fare per risolvere questo problema o comunque per iniziare ad affrontarlo? È un problema che è anche legato a una situazione generale. Risolverlo è praticamente impossibile. Dal dibattito verranno fuori le idee delle singole aziende dove ci sono quelli che sono più propensi per accorciare i pagamenti e quelli che lo sono meno. Tutti in teoria siamo propensi per accorciare i pagamenti però nella realtà in cui viviamo è molto difficile. È innegabile che è una missione tra le più difficili che ci possano essere. Una battuta sul mercato. Come potrebbero andare i prossimi mesi? Indubbiamente la situazione non è migliorabile. Quindi noi pensiamo che la situazione sia difficile. Poi dipenderà da tante cose. La speranza che ci metta a posto o migliori nella seconda parte dell'anno rimane. Però oggi, guardando il numero dei disoccupati che ci sono, che sono previsti, non è pensabile un miglioramento.